Un paesaggio da cartolina, il lago, le montagne a fare da sfondo a un video di sei minuti girato nella vasca idromassaggio panoramica sulle terrazze dell'hotel griso di Malgrate. Peccato che dalla pubblicità non voluta e non cercata, il rinomato albergo a quattro stelle avrebbe volentieri fatto a meno. Protagonista del filmato è infatti Laila, nickname di un'attrice porno amatoriale di Holly Fans, la piattaforma dove è stato pubblicato il video. Prima le evoluzioni nella camera dell'hotel, poi le effusioni hard della donna con due uomini nell'idromassaggio a disposizione di tutti i clienti del griso, che ha presentato denuncia per il grave danno di immagine subito. Non sapevamo nulla, naturalmente non è stata chiesta alcuna autorizzazione, che chiaramente avremmo negato, spiegano i gestori. Abbiamo ricostruito quanto accaduto, la coppia aveva soggiornato da noi a maggio 2022, poi non sappiamo se il terzo uomo avesse prenotato un'altra camera. Comunque, fatta la mala scoperta, appena il filmato è iniziato a circolare, ne abbiamo chiesto la rimozione. La protagonista lo ha tolto da Holly Fans, anche perché le riprese sono state fatte di giorno e si vede chiaramente l'insegna del griso, ma sulle chat e in rete continua a girare. Insomma, il danno è fatto, per questo abbiamo chiesto al nostro legale di presentare denuncia.